C'è fermento tra Potenza e Matera, questa nuova sede dimostra che il percorso artistico e di innovazione attraverso questa forma d'arte è ben avviato. Allora, c'è fermento, la realtà del Red House Lab che esiste appunto da cinque anni è una realtà efficiente e soprattutto fa cultura veramente, prende i ragazzi, li porta avanti per tre anni in un corso di illustrazione e in un corso di fumetto, si programma uno sviluppo di questi corsi accogliendo ospiti esterni, una dimostrazione è il fatto che io sto qua. Quest'anno ho esaminato come commissario esterno il portfolio dei ragazzi, quindi gli ho dato un parere diciamo diverso da quello che sono abituati a ricevere loro, con i docenti che hanno qua di solito e ho potuto constatare da parte dei ragazzi una voglia di stimoli, di incoraggiamento, di fare. Vengono tutti qua, come un po' tutti i ragazzi in Italia per, come dire, prendere quello streben, quel desiderio iniziale catartico di disegnare, di comunicare, di esprimersi e di piano piano declinarlo e trasformarlo. Per alcuni un domani sarà probabilmente un vero e proprio mestiere, per altri sarà semplicemente lo sfogo di un'esigenza e anche quello basta. È noto ormai come con Matera 2019 e si vada verso percorsi importanti. Ci sono differenze secondo lei tra Potenza, Matera, oppure questa regione è già pronta nel segno dell'unione anche attraverso il fumetto, questa forma d'arte? Allora questa è una bellissima domanda. Il fumetto andrebbe circoscritto a un discorso a sé stante rispetto alle amministrazioni pubbliche ovunque in Italia. Riguardo ai rapporti Matera-Potenza esistono idiosincresie, rapporti punti di unione e punti di distanza da sempre, credo. L'unica cosa che posso dire io è che in vista appunto della Capitale Europea della Cultura accolgano le proposte di questi ragazzi perché sono una realtà vera, cioè loro fanno veramente cultura.